Siracusa rinvenute dose di sostanza stupefacente in via Santi Amato, segnalato un giovane per possesso di droga. Agente del commissariato di Ortigia, a seguito di controllo operato in via Santi Amato, hanno segnalato all'autorità amministrativa competente un giovane di 29 anni per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente a crack. Inoltre, nel corso dei servizi sempre finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanza stupefacente nelle cosiddette piazze dello sfarcio seracusano, i poliziotti del commissariato di Ortigia hanno rinvenuto a sequestrato presso delle Aiuole in via Santi Amato 23 dosi di ascice e 12 dosi di marijuana già suddivisi e pronti per essere vendute agli assuntori della zona.